eccoci qua buongiorno quarta puntata di debunking finalmente cominciamo a trattare la storia della cattiva germania era già previsto l'avevo detto l'avevo annunciato perché le bufale sulla germania cattifa sono parecchie ho deciso di cominciare da quella più recente o meglio da quella che è stata rilanciata ultimamente ieri dal nostro meraviglioso premier conte l'avvocato del popolo in realtà è una coincidenza temporale il fatto che conte abbia rilanciato la storia sulla germania il surplus tedesco perché avevo già deciso di partire da lì in quanto è una delle bufale che più meritano attenzione e meritano un debunking comincio subito col col fare lo share del della presentazione che ho preparato perché come sempre mi farò aiutare da qualche da qualche grafica allora la domanda che dobbiamo porci è questa la germania viene trattati europei perché di questo che si parla ovvero voi sapete ne abbiamo parlato tante volte durante i nostri video ci sono dei trattati che vedono l'italia ma non soltanto l'italia ricordo la francia la spagna il portogallo e tanti altri paesi oggetto delle attenzioni della commissione per violazione dei trattati adesso andremo a vedere nello specifico che cosa dicono i trattati una la narrazione che viene fatta in italia è che anche la germania viola i trattati ma la germania non viene sanzionata dalla commissione europea questa narrazione è molto in voga nel famoso programma di economia dei radio 24 il sole 24 ore focus economia di sebastiano barisoni se non mi credete se già non lo fate andate ad ascoltare una qualunque delle puntate dei prossimi giorni magari proprio quella di oggi oppure quella del verdi in cui sebastiano il buon sebastiano che peraltro un bravo giornalista ma su questa cosa della germania sono sono anni che che batte il verdi sebastiano varisoni ha come ospite fisso il professor sapelli e loro due sulla germania e su questa violazione dei trattati da parte della germania ci hanno costruito un'intera narrazione mi aspetto che da qui a qualche tempo ci scrivano anche un libro perché è incredibile non perdono occasione sebastiano non perde occasione per dire per ricordare a tutti quanti di come la germania sia dura con gli altri paesi ma estremamente lasca quando deve fare i suoi compiti a casa adesso vedremo se questi compiti a casa li fa o non li fa dicevo la coincidenza temporale il fatto che il nostro premier conte ha rilasciato un'intervista una delle tante che sta facendo in giro per l'europa in questi giorni in cui al suddeutsche zeitung in cui oltre a riprendere la cosa del mess e del degli euro bond dice anche che la germania appunto dire ai trattati e che il surplus tedesco il surplus di trade commerciale tedesco è un freno all'europa invece di esserne una locomotiva vediamo un attimo vediamo come stanno in realtà le cose questo è un grafico fatto molto bene dall'osservatorio sui conti pubblici di carlo cottarelli gian paolo galli e tanti altri l'università cattolica di milano riproposto in un articolo di qualche tempo dietro in cui appunto si spiegava che cosa succede con il surplus tedesco vediamo che la bilancia commerciale in valori percentuali rispetto al pil effettivamente è salita molto negli ultimi anni addirittura vedete che dal 2000 in poi anzi 2001 in poi è diventata positiva e su questo tra l'altro è nata tutta quanto una retorica su come la germania abbia approfittato dell'euro che era troppo debole mentre altri paesi dalla adozione al sistema dell'euro ne abbiano tratto invece dei svantaggi questo magari sarà oggetto di un altro debunking fra un po di tempo quello che posso dire nel frattempo è che questa ricostruzione non tiene conto di molte altre variabili che poi andremo ad analizzare intanto ci fermiamo a questo dato ovvero che la bilancia commerciale tedesca effettivamente è salita molto nell'ultimo decennio per poi attestarsi anzi attestarsi tra il 6 e il 7 per cento e poi risalire addirittura toccando un picco dell'8,9 per cento nel 2000 e nel 2015 una cosa importante che poi dopo vedremo è questo fatto che questo surplus dell'8,9 per cento non è consentito dei trattati ci torniamo fra questa è la bilancia commerciale presa da un bel sito che io cito spesso che quello di atlas o ec world è un sito che calcola il complexity index delle varie economie l'indice complexity della germania è particolarmente alto è il terzo nel mondo l'italia al ventesimo se ricordo bene in cui si vede forse i colori sono appena appena sfumati però in azzurro vedete il l'export e il rosso più basso c'è l'import della germania quindi da questa differenza deriva il il surplus il surplus tedesco nei nel commercio questo è un altro grafico fatto anche questo molto bello in cui il sito dell'o ec ci dice che cosa esporta la germania verso l'italia ho preso soltanto il dato verso l'italia ma si possono fare si può fare qualunque tipo di interazione sia per paesi che per tipologia di esportazione e questo invece che cosa importa la germania dall'italia stessa cosa qui il grafico interattivo il sito interattivo è fatto estremamente bene molto interessante anche molto gradevole ha un unico difetto quello di fermarsi nell'analisi al 2017 speriamo che presto venga aggiornato con i dati più recenti però consente di farsi un'idea molto puntuale di quello che avviene nel commercio mondiale allora dicevamo prima la germania viole trattati questa è la narrazione è vero che la germania viole trattati per capirlo bisogna andarsi a leggere i trattati bisogna vedere che cosa dicono i trattati il trattato di funzionamento dell'unione europea il famoso tfue e il famosissimo articolo 126 quello che tratta appunto degli squilibri macroeconomici allora nel trattato di funzionamento dell'unione europea si parla di disavanzi come squilibri macroeconomici si parla esclusivamente di disavanzi sotto il profilo del deficit di bilancio e sotto il profilo del debito pubblico da questo articolo 126 nasce poi tutta la normazione successiva che è quella che ci ha portato al fiscal compact ai capitoli 2 pack e 6 pack di cui abbiamo parlato tante altre volte però fra gli squilibri macroeconomici non è mai citato il surplus di bilancio infatti ogni tendenza che cosa non come si definisce secondo il regolamento 1176 del 2011 lo squilibrio macroeconomico ogni tendenza che ha o potrebbe avere effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno stato dell'unione economica monetaria o dell'intera unione europea abbiamo ribadito tante volte siamo in un club gli squilibri macroeconomici hanno effetti non soltanto su chi quei equilibri quelli quei disequilibri li genera ma anche sull'intero funzionamento dell'unione europea il mio squilibrio economico mio come italia potrebbe ledere interessi del del partner francese tedesco spagnolo olandese così via allora il regolamento ci dà questa definizione che abbastanza generica andando a scorrere nel regolamento richiamando anche l'altro regolamento che quello dove vengono descritte le azioni correttive che devono essere fatte per ridurre gli squilibri economici non troviamo nulla che faccia riferimento al surplus di bilancio circostanze economiche eccezionali sono le circostanze in cui il superamento del valore riferimento del disavanzo pubblico vedete che anche qui si parla di disavanzo e non di avanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126 del trattato di funzionamento quello che abbiamo visto prima altro non c'è perché non c'è perché questa storia dell'avanzo di bilancio è una cosa che arriva successivamente nel regolamento 1176 con materie letterabili si fa accenna a squilibri interni compresi quelli direttamente delle posizioni di partite correnti pian piano ci stiamo avvicinando solo nel quadro di valutazione dei possibili squilibri si raccomanda che la media trennale della differenza fra export e import sia compresa fra il meno 4 e il più 6 per cento del qui allora che cosa succede il i due regolamenti che abbiamo visto prima individuano un un board una funzione all'interno dei vari organismi europei che deve individuare quelle situazioni di squilibrio o quelle situazioni di disallineamento che possono nuocere al funzionamento dell'intera unione poiché nei trattati non c'è scritto nulla rispetto all'avanzo di bilancio questo board che dopo declineremo un pochino un pochino meglio ha anche individuato fra i possibili squilibri fra gli squilibri che possono determinare degli scompensi sul funzionamento dell'unione europea anche la differenza fra export ed import quel 4 meno 4 più 6 è un'indicazione che a livello empirico non è stata oggetto di alcuna valutazione nel senso che si sono posti dei traguardi dei limiti sono stati messi quelli per convenzione ma non c'è una norma scritta che prevede che al superamento del meno 4 oppure del più 6 scattino delle sanzioni infatti lo sforamento del 6 per cento non prevede sanzioni ma soltanto raccomandazioni per una correzione se tale sforamento costituisse pregiudizio al funzionamento dell'unione quindi prima bufala la Germania viola i trattati no non viola nessun trattato perché non c'è nessun trattato che dice questo semmai viola una raccomandazione adesso vediamo se la viola o non la viola perché scatti una sanzione è necessario che o ci sia una norma che conduce ad una sanzione oppure che quello sforamento rispetto ad una disciplina che è stata accettata da tutti i paesi generi effettivamente un malfunzionamento dell'unione dell'unione europea ripeto non esiste nessuna sanzione prevista per il disallinamento fra export ed import allora vediamo un attimo ecco qui le country specific recommendations for germany cosa dicono dicono che essendo la Germania in trade surplus come abbiamo visto prima 8,9 8,2 per cento 8 per cento 7,9 quello che eccetera eccetera bisogna utilizzare questo trade surplus per fare degli investimenti aumentare dice il CSR nella sua raccomandazione del 5 giugno 2019 dice il CSR bisogna incentivare gli investimenti sia pubblici che privati e dice specialmente a livello regionale locale perché a livello regionale locale perché intanto i lender sono indietro rispetto all'investimento rispetto allo Stato centrale. Seconda cosa perché proprio l'architettura politica economica e di funzione della Germania è basata molto sui lender su queste regioni. Che cosa ha fatto la Germania? I lender hanno risposto poco a dire la verità mentre l'amministrazione centrale ha effettivamente aumentato gli investimenti pubblici. Vedete del 7,7 per cento in termini nominali nel 2018 e del 3,8 per cento in termini reali. Sono tre anni lo ammette anche la commissione e nel suo CSR che la Germania sta aumentando anche se di poco gli investimenti del settore pubblico. Ripeto sono un pochino indietro soltanto quelli legati, quelli definiti investimenti regionali e locali. È ancora inferiore alla media ma la Germania si è impegnata a fare di più. Lo sta facendo, non tutti gli investimenti si possono fare subito ma la Germania sta correggendo questa cosa. E in effetti se torniamo un attimo al grafico di prima possiamo vedere vediamo dov'è, possiamo vedere che effettivamente la bilancia commerciale è andata calando a partire da questa il saldo della bilancia commerciale è andato calando. Andiamo avanti, andiamo avanti. Una cosa estremamente importante è vedere che tipo di export fa la Germania e dove la Germania ha effettivamente un forte surplus di bilancio. Questo è un dato, è un grafico elaborato da me su dati di Eurostat. Eurostat contiene praticamente tutti i dati e dove non li contiene, per esempio sulla spesa sanitaria o li contiene parzialmente come sulla spesa sanitaria, rimanda agli studi dell'Ocse. Il trade balance in miliardi di euro è particolarmente grande nel complesso, però è relativamente piccolo nei paesi all'interno dell'Unione Europea. La Germania esporta molto, abbiamo visto, è un fatto in dubbio questo, però il surplus di bilancio, chiedo scusa, il surplus di bilancio commerciale è particolarmente forte verso paesi extra-UE, non all'interno dell'UE. Per questo motivo non c'è uno squilibrio, non c'è uno squilibrio significativo che possa determinare delle azioni più forti, a parte il fatto che le azioni più forti non sono previste dai trattati, sono previste soltanto le raccomandazioni, non sono previste le sanzioni. Ma in ogni caso i richiami della Commissione Europea non sono così perentori, proprio perché lo squilibrio non è all'interno dei paesi UE, ma all'esterno dei paesi UE. Questo è un dato che ho voluto prendere per far vedere come gli investimenti, quelli nel settore pubblico e totale in Germania stiano lentamente aumentando. Ripeto, lentamente, siamo sotto media europea, però stanno aumentando. Vedete che a partire da, grosso modo qui, 2012-2013, no, 2013-2014, gli investimenti pubblici siano aumentati e comunque rappresenti una parte significativa del totale degli investimenti, mentre quelli totali sono aumentati anch'essi. Quindi seppur in ritardo, anche sugli investimenti, la Germania si sta allineando a quella che è la media europea. Tra l'altro non mi risulta esistano voci contrarie. La Merkel ha più volte detto che anche sotto questo aspetto la Germania deve fare di più, c'è piena collaborazione. Conclusioni. La Germania non vieta alcun trattato, perché nessun trattato vieta il surplus. Parlo sia di surplus di bilancio, quindi l'avanzo di bilancio, che la bilancia commerciale è superiore al 6%. Esiste però una raccomandazione. L'accomandazione prevista dalla country recommendation chiede di utilizzare parte di quell'avanzo in investimenti, cosa che la Germania, magari timidamente, ma la Germania sta facendo. Buona parte degli scudibili è con paesi extra-way. La Germania ha un trade balance particolarmente positivo con i paesi fuori dall'Unione Europea, non con i paesi all'interno dell'Unione Europea. Evidente, ce l'ha con i paesi dell'Unione Europea, ma non generano sicuramente squilibri. Solita conclusione che sta diventando, mi rendo conto, una costante di queste puntate, è che noi chiediamo sempre agli altri paesi efficienti, ai nostri partner efficienti, di essere meno efficienti. È un'impostazione culturale, intellettuale profondamente sbagliata. Noi dovremmo fare qualcosa per diventare efficienti come lo sono altri paesi. Non tutti, ma ci sono dei membri della UE che hanno dimostrato delle best practice. La Germania ne ha fatto in special, ma poi lo vedremo in un'altra puntata, per esempio nella contrattazione, che ha puntato molto sul recupero di competitività. Infatti poi vedrete in una delle prossime puntate quanto ha inciso questo recupero di competitività. nell'andamento di finanza pubblica particolarmente favorevole della Germania, e come invece ha inciso negativamente la totale scarsa attenzione verso la produttività per quanto riguarda invece l'Italia. Dicevo, noi continuiamo sempre a guardare quello che fanno gli altri bene come se quello che fanno gli altri ci penalizzasse. Le best practice esistono perché devono essere imitate. Chi fa bene in un campo è bene che magari condivida anche strategie, tecnologie, normazione, eccetera, eccetera. Cosa che peraltro non è particolarmente difficile fare, basta fare un pochino di analisi comparata. Ma, dicevo, non è una cosa che pregiudica l'andamento degli stati che invece quelle best practice non le adottano. In tutta la retorica nazionale c'è un guardare allo straniero, in particolare ai paesi del nord Europa, come quelli che approfittando di situazioni, magari situazioni che sono state in qualche modo favorite dalla politica, ne abbiano approfittato per mettere in difficoltà paesi che invece non hanno beneficiato o hanno beneficiato soltanto in parte da alcune scelte. È profondamente sbagliato, è anche abbastanza puerile e francamente me ne vergogno un po' da italiano. che si adotti questo tipo di strategia o di tattica quando si affrontano i problemi. Ieri la Regione Lombardia ha pubblicato un video in cui ringrazia giustamente tutti quelli che stanno dando una mano per aiutare la Regione che è stata profondamente colpita dal Covid. Stranamente si sono dimenticati della Germania e il bravissimo Udo Gumpel l'ha sottolineato in un tweet, in un post. È una cosa... La Germania ha fatto tanto, per esempio, ha accolto malati che non avevano spazio nelle ICU lombarde, malati che sono stati trasferiti in reparti di terapia intensiva in Germania, la Regione Lombardia se ne è completamente dimenticata. È una cosa che mi fa profondamente vergognare e immagino come si senta un giornalista bravo come Udo che vede tutti i giorni questi attacchi sconsiderati al suo paese. Quando in una fase di emergenza come questa l'Europa dovrebbe camminare all'unisono e noi che abbiamo maggiori difficoltà ad affrontare, soprattutto da un punto di vista economico, la crisi, attacchiamo chi in fondo ci dovrebbe e ci potrebbe aiutare. Certo, gli aiuti arrivano con le regole che ci sono. Abbiamo già detto e ridetto che non ha senso aspettarsi di trasferimenti gratis per tutta una serie di ragioni, però l'Europa ha dimostrato con BCE, e con le altre misure che sono state prese, SHORE, MESS, eccetera, eccetera, di volerci dare una mano visto che siamo tra i paesi più colpiti, noi insieme alla Spagna. Noi invece rigettiamo zenniosamente questi aiuti che arrivano dai nostri partner, dai nostri soci, dai nostri amici, dai nostri alleati, magari per incorrere ipotetiche alleanze con paesi che ci sono molto meno amici, e gli alleati li disprezziamo, anzi, li attacchiamo quotidianamente. Non è una buona strategia, non funziona, e dal mio punto di vista fa anche un po' vergognare. Per chiudere, ricordo, non c'è nessun trattato che vieti il surplus di bilancia commerciale della Germania nell'avanzo premario di bilancia. non esiste. La Germania non è stata sanzionata mai perché non è prevista nessuna sanzione. Esiste una raccomandazione che è oggetto di monitoraggio naturalmente. Il CSR viene emesso due volte l'anno. Se si va sul sito della Commissione lo si può scaricare. Ci sono le raccomandazioni previste per tutti i paesi dell'Unione Europea. Se si digita CSR Germany usciranno tutte le raccomandazioni che sono state fatte alla Germania. E vedrete che troverete sempre la stessa cosa. Una descrizione dell'andamento dell'economia che è oggettivamente buono con questo potenziale squilibrio per il quale si raccomanda un maggiore impiego di risorse pubbliche per gli investimenti. Cosa che come abbiamo visto la Germania sta cominciando a fare. Più avanti parleremo di moneta. Ho deciso con queste serie di debunking di alternare un pochino in modo da non diventare particolarmente noioso e di trattare diversi argomenti. Oggi per la prima volta dopo che l'avevamo annunciato siamo entrati direttamente su una delle narrazioni più antipatiche che ci sono sulla Germania. Credo che sia dimostrato facilmente con numeri, tabelle e grafici che questa è l'ennesima panzana che mi è raccontata. Io vi ringrazio intanto e vi saluto e rimando alla prossima puntata di debunking. Grazie. Grazie.